in questo corso ti insegnerò 5 diverse tecniche per realizzare una bocca pasta di zucchero così tu potrai scegliere il metodo più adatto a te al tuo modo di lavorare o al soggetto che stai realizzando partendo dalla più semplice la più complessa vediamo insieme quali sono queste tecniche la prima il metodo della barca vela la seconda il metodo della m la terza il metodo dell'aggiunta doppia semplice la quarta il metodo dell'aggiunta singola con taglio e infine la quinta la tecnica del taglio sono sicura che alla fine potrai scegliere il metodo più adatto a te grazie a tutti